se elimini 25 persone avrai un incremento del 30 per cento della retribuzione accetti come si segue la gente dottore per piacere non mi mandi via siamo nella fase tipica post trombata dopo sei mesi che trombiamo siamo nella fase tipica della post trombata perché perché non si può mai sapere col governo magari con la legge nuova io in pensione non ci vado più ha sentiti da un input su santinato si gioca tutto all'otto è fottuto due anni fa ammazza gli avete dati 50.000 lei mi vuole fregare tutti i segati raccontano un sacco di balle dicono che ha preso 100 nel pagliato due lire dottore 50.000 euro per quello c'è la lotteria santinato tu ombre di merda ti mancano solo cinque persone il piano è fatto ai vecchi non danno cazzo a quelli in cui mancano un anno della pensione il meno possibile ai giovani li fai salire su un pulmone e li butti giù da un burrone mi stimo molto io cerco e do trasparenza